in polonia si c'è orso bruno che è grande come quello polare orso bruno dell'osso? si si sono grandi quelli bruni ora quando lo senti già senti tipo come se fosse qualcuno mi sta cacando no? e fa oh che non ce lo fa e questo è un verso di orso no? quando c'è stitichezza come si chiama si e non ce lo fa l'osso è tericoloso mi sa? dipende dipende come con tutti gli animali se tu fai movimenti bruschi puoi senti paura loro sentono certo devi stare calmo immobile ti entra anche dentro casa loro si trova anche osservi si allontana tranquillamente e noi dicevano bisogna cacarsi sotto così sei una puzza di merda e ti lascia stare ah si dicevano? si si